Bentornati su MyFootballGersey. Oggi rivediamo una maglia che avevamo già visto in passato in edizione fan, che trovate qui in alto la recensione. Questa è la seconda maglia dell'Inter Miami in edizione player. Questa è la seconda maglia. La maglia non è niente male. Nella mia classifica prende 4 stelle. La maglia di Messi è, secondo me, una maglia che dovete mettere nel vostro armadio. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso, per un'edizione player veramente fatta molto bene. Devo essere però onesto, tra la versione player e la versione fan non ho trovato tantissime differenze. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi aspettano. Ora vi lascio la parte finale. Prima però lasciate un grande like, ma iscrivetevi soprattutto al canale. A voi non costa nulla, ma a noi permette di farvi vedere sempre nuove maglie. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.